C'è anche una ginecologa retina di Bibbiena tra i quattro medici dipendenti dell'ospedale di Prato arrestati dai carabinieri per peculate truffa ai danni dello Stato. In manette sono finiti anche tra i cittadini cinesi. I medici, tre uomini e una donna, la 41enne casentinese appunto, che ha anche un ambulatorio privato a Bibbiena, avrebbero, secondo la ricostruzione degli inquirenti, effettuato visite in nero a cittadini cinesi utilizzando le strutture dell'ospedale con la mediazione di alcuni orientali facendosi pagare alte parcelle durante l'orario di lavoro. Le ordinanze di custodia cautelare e domiciliari sono state emesse dal GIP di Prato su richiesta della procura. Altre quattro persone sono state raggiunte dalla misura di obbligo di firme ed infine 18 in tutto sarebbero gli indagati. In base agli elementi emersi nel corso delle indagini, le pazienti cinesi sarebbero state inviate ai medici da tre mediatori e pagavano loro una parcella che andava dai 100 ai 150 euro, girandone poi una parte ai medici. Le pazienti saltavano così la trafila della prenotazione al CUP, ma loro non viene contestato nulla, nella convinzione che non sapessero come funzionava il sistema della prenotazione. La ASL, che ha già fatto sapere che i medici sono stati immediatamente sospesi, ha collaborato con i militari dell'arma nelle indagini, tanto che sono stati filmati i passaggi di denaro contante. L'azienda sanitaria inoltre si costituirà parte civile per ottenere un risarcimento dei danni subiti, sia di immagine che patrimoniali. L'inchiesta era scattata nell'autunno 2017, a seguito del malore accusato da una ragazza cinese che aveva ingerito delle pillole abortive, farmaco che si è poi scoperto provenire dal circuito ospedaliero. A quel punto le intercettazioni telefoniche hanno permesso di risalire all'identità dei medici coinvolti.